Subito così, subito! Salve tutti ragazzi, sono Zoivest, abbiamo fatto cerca partita su DayRise, avete visto il titolo? E' subito! Ecco Weear! Ecco Weear, how are you? E' italiano, è italiano! Good, why? Chiama Antonino, Loli? I'm fine too, thank you for all of you. Ho visto l'account, ho visto l'account. Allora ragazzi, qui con me, avete sentito? Mi ricordo una sega della mappa, io perfetto. Salve Tt! E c'è Arch, convintissimo, che ha soltanto questo DLC purtroppo, quindi soltatelo pesantemente, io avevo già fatto la petizione per spellerlo. O ma sai che tutti hanno preso seriamente la petizione? Uno mi fa, 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 una m'ha scritto ma non è successo il spozzo del BSC. Madonna. La petizione per buttarti fuori dai BSC tutti che ci credono. Mamma mia. Noi ti vogliamo, ti vogliamo un sacco. Noi ti vogliamo molto bene. La testa di altri giocatori. Esatto, idem. Come faremo, scelto di te, caro mio. Arch, scusami tu sei tu che stai caricando. Certamente, ti fare mai. io l'ho detto che prende regime e posso dire assolo perchè? allora sei tu che mi hai scelto non mi devi rompere il culo e come porca troia mi è arrivato un messaggio dalla team 4916 sulla chiavetta perfetto non c'è un cazzo di elettricista guarda arce arce vola lo so mio personaggio vola oh 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 chi è l'host? chi è l'host? zombie best host oh mio dio che alto che il volume adesso chiedo a echo where non mi preoccuparci che ancora sta volando dai arrivo arrivo tranquillo si echo where eccomi mamma mia which is your best round in this map cosa hai detto cosa hai detto cosa hai detto quello non è mai inglese come 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 what 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 not bad and your best round everywhere in every map in this game ma basta interviste ma aah eh porca di quella mignotta però non è possibile che vado a terra così 76 on nuketown 76 on nuketown? oh in neo chi è l'equeware che abbiamo qui ehm ehm mi è 65 on mob of the dead ma è facile un them Il figlio di mignotta, vai a fare in culo Questa è QWR, ha fatto così Ma io ho questo qua, ho visto che si chiama Antonino è proprio la schiena E io ho giunto questa mappa per il round 59 E qui sul PC è questa la mia prima gioca Questo è il tuo primo gioco sul PC, il primo Ma no, ma non è vero Sì, su PC, su PlayStation 3 ho Oh madonna, santissima di Dio Quindi questa è la prima volta che hai giocato questo gioco sul PC? Prima volta? Ma buonica puttana Ma buonica puttana Quindi hai bisogno di dire hello al Youtube? Adesso 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 Ma l'ha detto minaccioso Ma l'ha detto minaccioso Adesso Ma l'ha detto minaccioso Adesso Nessuno mi ha guardato Grazie Fra Io mi chiedo Dove sono andate qui due froci Non hai detto minaccioso Non hai detto minaccioso Non hai detto minaccioso Voro Eeeh Lo sentite Lo stavo a perdire Lo stavo a perdire Lo stavo a perdire N itself Nice CS good country Nice舞 Child Also map Di merda Di merda ma che cosa? è un terreno io posso anche parlare italiana ma che cazzo ma che cazzo no, io non posso parlare italiana io, io posso sai qualche parola pizza, mario pasta muca pazza cosa c'è da muca pazza guarda che io stavo giocando stavo giocando con un olandese a worms e sto qui è uscito fuori con arrivederci prima no, e dopo muca pazza spiegamelo madonna santissima di dio ce l'ho io ce l'ho attenzione lui trova l'incredibile madonna ok a posto ok a posto ha petonshotta, questa cosa mi piace oi, ma dov'è chi siete voi scusate alla cassa dove è la cassa dove è la cassa ragazzi non te lo diremo mai perchè gliel'hai detto perchè gliel'hai detto scusa lui non so dov'è non si ricorda ma perchè gliel'hai detto che ho trovato la reagan hai trovato la reagan hai trovato la reagan hai trovato la reagan ma hai trovato seriamente la reagan ma porco dio non è possibile fa vedere non ci credo ecco la che c'è dietro di te, vedi ce l'ha sul serio Arch e oddio che c'è dietro di te 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 è invalidato di me leon facciamo scompare la cassa facciamo scompare la cassa stiamo parlando di cambiare discone c'è dietro di te questo è la mia prima volta sul PC ma ho questa map che ho spiegato sul PS3 l'ho capito abbiamo capito ho capito ho spiegato altri game altri game su PC prima di questo mi è comparso io sono zombie davanti stavo per rimanerci secco ho mandato esattissima ma fra sei andato giù avanti guarda uno zombie che cammina su co oh my god bug bug ragazzi venite giù venite giù venite giù subito subito adesso adesso davvero 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 è spettacolare è spettacolare venite giù venite giù giù dove ci sono i salti i salti pericolosi quelli dove si muore se si sbagli ecco 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 uno sta venendo giù e fra guarda no guarda no ma è confuso basta era confuso no me l'hai segato ma io sono senza armi comunque beh io c'ho la ha ha e la i i butto la ha ha e la bella ha 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 sono armi perfette cosi cosi mi butto così perchè stasera mi butto stasera mi butto no perchè dai ecco il poverino è già a quattro a terra dai per fargli compagnia beh la sua prima volta su PC ho capito ma però ha giocato con la mappa su PS3 è buono che questa è la prima volta su PC ma hai giocato questa mappa su PS3 ancora è buono non mi caca no perchè è concentrated è concentrated oh dopo tre ziii stiamo stiamo iniziando un po' troppo a dialogare con adesso apriamo il canale international eh quello è veramente rimane ora diremo l'attistico contro l'italiano e premo solo il video in un caso ecco perfetto fuck italian fuck italian eh say hello to youtube by saying cazzo di negro ma no 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 ok palo più pc u no calo 2 pro hot che cazzo ha preso da perciò i mercati pelorico come come preso pa pancakes questo fu Questra ragazzi nonno di tre di 4 troppo non pronuncia le parole in italiano ma si chiama Antonino il bello è che si chiama Antonino vive in Germania e parla un po' di italiano ma sei sicuro che sia tedesco perché ho qualche dubbio eh sì ma anche io andiamo un po' sul suo profilo steam perché io non mi sento è quello che ti ho detto ma guarda si chiama Antonino apri lì I've opened the door good job Vince good job Vince è tedesco ecco ero Wige次 dir che cosa hai detto Wige次 dir T'ho abbattonato! Lo stavo per scamare non è ragazzi non è tedesco lo stavo per scamare Questa quittato è italianissimo Ma si? Si è italianissimo Ma no è quittato Eh dobbiamo rifare Eh si 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 Ma terrai questa parte qua vero? Si si beh chiaro Questo ragazzi è italianissimo E' fottutamente italiano Infatti appena gli ho fatto una domanda In tedesco basta quittato Comunque gli avevo chiesto come stava Tu come lo sai in tedesco? L'ho studiato in una scuola Che cazzo vuol dire? Come stai? Ma porca puttana Uno può rispondermi mir gets good Che vuol dire? Si grazie sto bene Senza grazie Uno potrebbe dire Ho il nazismo Dobbiamo riniziare ragazzi riniziamo Ma come mi grazie a te host? La partita comincia Cosa? La partita comincia Cosa vuol dire? Poi non ho tutto Stacca 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 Ma che cazzo non sei chiedere? Ma signore di dio Ma che cazzo Dai ci siamo 1 2 4